fallo tutto oro sì ottima idea allora io la voglio fare così vi dico questa di un artista americana dopo metto il suo il suo contatto praticamente non è emulare l'occhio vero ma è divertirci e quindi colorarla così ne voglio una così quella oro fighissima molto pirata e anche una coi colori del mare sono un po costose queste ma molto meno rispetto a queste e si possono indossare tranquillamente come vedete sono fatte su misura tutte e sulla nostra cavità ed è un modo per me per curare le mie ferite questa è una ferita a tutti gli effetti che deve restare aperta perché mi permette di essere diciamo socialmente accettabile con protesi normali almeno per adesso per passare inosservata ecco però c'è un'altra ferita che sto curando in questo modo per quella emotiva e quindi tornare alla mia bambina e festeggiare onorare ciò che sono ciò che è facendomi un regalo che quello che è un inno a a ciò che che ho è un modo per esorcizzare un modo per affrontare un modo per curare per me per accogliere totalmente me stessa e per onorare quello che sono e noi siamo anche ciò che ci accade le conseguenze di ciò che ci può accadere ma questo non ci rende meno meno belli anzi possiamo diventare ancora di più non vedo l'ora che mi arriva sappiate che farò un sacco di video su tiktok con questo grazie per il consiglio la farò anche ora appena possibile